ciao a tutti e benvenuti nel mio canale oggi nuovo video video su un rossetto iconico che ha fatto la storia dei rossetti rossi che è ruby who di mac prima di iniziare devo però ringraziare la mia amica angelica che io chiamo amorevolmente babbiona amica mia carissima del cuore perché è stata proprio lei a regalarmi questo rossetto quindi come potete capire sono in debito con lei come potete ben vedere sto indossando ruby who anche adesso e devo dire che è un rossetto fantastico pazzesco non so se lo sapevate ma mac fa uscire ruby who nel 1999 e diventa praticamente subito un best seller infatti si dice che al mondo ogni minuto vengano venduti 4 rossetti ruby who quindi rendetevi conto quanti ne vengono venduti in un anno veramente tantissimi il motivo del suo successo è che sembra stare bene e valorizzare ogni donna perché il colore di questo rossetto sembra adattarsi ad ogni incarnato e ad ogni sottotono viene definito da molti un rosso universale o il rosso per eccellenza uno dei molti motivi per cui ruby who sta così bene a moltissime donne è perché ha un sottotono freddo e quindi ha un rosso tendente al blu e come è ben saputo i rossetti dal sottotono freddo aiutano a schiarire i denti a farli sembrare più bianchi quindi anche questo è un punto a suo favore ruby who fa parte della categoria retro matt di mac quindi è un rossetto super opaco la texture è molto asciutta e secca infatti fa un pochino fatica a scorrere quando lo applicate io di solito per delineare un po meglio i miei bordi mi aiuto con un pennellino per stendere il rossetto avendo una texture così asciutta e secca tende un pochino a seccare le labbra quindi prima di stenderlo vi consiglio di applicare prima un burro cacao ed idratare bene le labbra nonostante questo la durata è veramente eccezionale rimane perfettamente sulle vostre labbra non si sposta durante il giorno e tiene molto bene anche se mangiate anche se non è al 100% no transfer il profumo di questo rossetto è buonissimo ma ricorda le tic tac e nonostante sia un po secco dona le vostre labbra un finish vellutato infatti io ho le labbra piene di rughine ma quando lo stendo me le va come a levigare quindi fa un effetto bellissimo devo dire che sta veramente diventando uno dei miei rossetti preferiti in più il punto di rosso è veramente bellissimo a un rosso vivo un rosso pieno un rosso rubino appunto vi consiglio di abbinarlo a un makeup semplice o a uno smokey eye scuro in modo che il vostro rossetto possa essere protagonista anche se io oggi in realtà l'ho abbinato con uno smokey eye sul verde infatti mi sembra un po di essere poison ivy non so se vi ricordate chi era era una cattiva di batman che aveva i capelli rosso fuoco e un vestito sul verde fatemi sapere giù nei commenti se vi ricordate di lei ruby wu è uno dei rossetti più amato dalle celebrity di tutto il mondo soprattutto la vita von tis scarlett johansson ed arianna ed è proprio quest'ultima che insieme a mac ha creato un rossetto che si chiama riri wu che è molto simile se non uguale appunto a ruby wu tra i vari dupe economici di ruby wu io vi consiglio il rossetto di nyx perfect red e il rossetto di wet and wild spotlight red anche se non so se potranno mai eguagliare ruby wu altro colore molto simile che ho nella mia collezione è lady balls di too faced che è un rossetto liquido sempre matt e opaco anche se devo dire che forse costa un pochino di più anche il video di oggi è finito io spero vi sia piaciuto fatemi sapere se anche voi avete provato ruby wu oppure fatemi sapere quali altri rossetti di mac amate sempre giù nei commenti lasciate un mi piace e iscrivetevi se vi sto simpatica e volete vedere altri video ringrazio ancora infinitamente la mia amica angelica perché veramente non so cosa farei senza di lei non solo perché mi regala queste cose bellissime ma anche perché è una vera amica è la persona più generosa che io conosco a questo mondo e quindi le mando un gabaccione detto tutto ciò io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video la textura è molto asciutta e fredda ma cosa sta dicendo sono scema tra i vari dupe economiche economiche